Ciao a tutti ragazzi, sono qui su un nuovo video ragazzi, come ho detto nel scorso video della cuffia ragazzi chi mi segue ovviamente sa cosa sto parlando ragazzi comunque oltre a questa telecamera ragazzi, come potete vedere, ho preso anche il piedistallo in cui sto registrando dopo ve lo faccio vedere, lo tolgo dopo, ok? vi faccio vedere, 14 euro, poi questa qua serve per lo spazio la 633 per, ecco lì ah, su Wallet on Battle Sme ho pure giocato a Fortnite sul PC facciamo per cagare perchè non ci ho mai giocato sul PC poi ho fatto anche cosa su PS4, poi non si poteva giocare perchè non ci ho mai giocato adesso andiamo ad aprire solamente ragazzi se... ma che c'è? nooo no un attimo aspettate ragazzi ecco così 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 no così è difficile ragazzi così va bene, va bene, va bene allora allora ragazzi adesso noi lo andiamo ad aprire potete vedere non so se non si vede molto ok adesso ragazzi apriamo canon canon ragazzi c'era quella con i top peggiori di 333 ma io ho preso quella di 429 ragazzi euro eh aspetta ma ne ho avanti tanti euro e tanti soldi eh già eh già ragazzi e c'è porcocane porcocane ragazzi porcocane ragazzi aiuto non so se riesco ok mi metto così la telecamera io non decido come cazzo sto cosa perchè è stata un'impresa da metterci il cellulare qui sopra è attaccato un'impresa 10 minuti se è stato beh è difficile ok non giudicatemi qui sotto c'è tutto il prodotto ragazzi ehm poi se riesco ci farò anche video ehm aiuto aspettate che eccola qua vaga il nostro gioiellino mette fuoco ok il nostro gioiellino vedete è così ragazzi molto bello ok poi vi faccio anche dietro madonna che figata che figo che figo che figo ragazzi troppo bello ok questo vuole che si se non hai risconto ragazzi qua non la prendevo di 400 minuti la prendevo quella con la qualità peggiore qualità peggiore lo so è un vero panificio ehm caricatore ovviamente comunque questo qua è a a cosa come si chiama bluetooth bluetooth è a bluetooth ehm comunque ragazzi in estate quello secondo sarà finito ascolto tranquillo non mi vedete più sto ci spuglio dentro eh mi vedete con i capelli corti tranquillo ehm praticamente come potete vedere carica mette fuoco please mette fuoco e non metta fuoco yes mette fuoco mette fuoco mette fuoco please e non mette fuoco ma va bene va bene va bene va bene un attimo Innalare, aspetta, ok, non so se per me non si toglie, non so, no, come le lezione, allora, allora, please, no, please, ok, ce l'ho tolto, miracolo, 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 bello, bello, questo qua non so, non capisco niente della ricarica, però chi se, però, chi se ne frega, ce ne fochiamo, Poi qua c'è, ah, questo ragazzi è il, è quello sto qua, voi pensavate, beh, sì, beh, questo qua è un caricatore, è il caricatore, beh, sì, ragazzi, pure questo è il caricatore, però, beh, anche questo, questo serve soprattutto a caricare, eh, già, Cioè, veramente, questo cavalletto, per fare i video, mi trovo benissimo, lo userò sempre nella mia vita, eh, cosa, che hanno un bellissimo, voglio rivedere, così, bellissima, bellissima, Eh, beh, cosa posso dire, pure, c'è anche questo cavetto, che non, ne capisco, l'importanza, e non capisco nemmeno, che cosa è, vabbè, però, noi, niente, guardate che maglietta di merda, c'ho, boh, Oh, cacchio, non potete, però, chi se ne frega il cu, mi dio, spasco tutto, dico, dico, ok, oh cos'è questo cos'è non ho capito non ho capito non capisco niente questa roba non ci capisco niente faccio vedere faccio vedere se voi ne capite inscrivetevi nei commenti però io porco dio porco disco così non ci capisco niente ragazzi questo è il box opening e bello a tutti e ciao gattini